Buongiorno a tutti, oggi giovedì 9 novembre, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, versetti dal 13 al 22. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei, Gesù salì a Gerusalemme, trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro, decambiamonete e ne rovesciò i banchi e i venditori di colombe disse portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zelo per la tua casa mi divora. Allora i Giudei presero la parola e gli dissero quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i Giudei questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Oggi ascoltiamo questo Vangelo secondo Giovanni perché la liturgia ci fa celebrare la festa della dedicazione della Basilica Lateralense costruita dall'imperatore Costantino in onore di Cristo Salvatore come sede dei Vescovi di Roma la cui annuale celebrazione in tutta la Chiesa Latina è segno dell'amore dell'unità con il Romano Pontefice. Ecco perché è così importante per la liturgia questa celebrazione e il Vangelo che appunto viene proclamato in questa liturgia ci propone proprio il tema del Tempio come edificio di preghiera ma anche collegato immediatamente al corpo cioè all'umanità di Gesù Cristo. La sua umanità e la sua santità, la santità di Dio dimora nel corpo di Cristo. Quindi non basta avere strutture per la preghiera, per i sacrifici come nel caso appunto del Tempio di Gerusalemme che lui frequentava, che Gesù stesso frequentava. È importante che le persone siano sante perché persone sante rendono santo tutto ciò con cui esse vengono a contatto non solo il Tempio di Dio, non solo le Chiese o le strutture sacre ma il mondo intero. A cosa servono allora le Chiese? A ricordarci che siamo un popolo di persone che desiderano la santità di Dio e non i commerci e i mercati. In questo le parole di Gesù ci aiutano molto. Un discorso del Santo Vescovo Cesario di Arles pronunciato proprio durante questa festa, questa celebrazione liturgica, ci fa comprendere bene il senso di questo giorno. Vi lascio questo discorso proprio perché ci aiuti meglio a celebrare questa questa liturgia, questa questa giornata. Con gioia e letizia celebriamo oggi, fratelli carissimi, il giorno natalizio di questa Chiesa. Ma il Tempio vivo e vero di Dio dobbiamo esserlo noi. Questo è vero senza dubbio. Tuttavia i popoli cristiani usano celebrare la solennità della Chiesa matrice poiché sanno che è proprio in essa che sono rimasti spiritualmente e sono rinati nello spirito. Per la prima nascita noi eravamo coppe dell'ira di Dio. La seconda nascita ci ha resi calici del suo amore misericordioso. La prima nascita ci ha portati alla morte, la seconda ci ha richiamati alla vita. Prima del battesimo tutti noi eravamo carissimi il Tempio del Diavolo. Dopo il battesimo abbiamo meritato di diventare Tempio di Cristo. Queste sono le parole di Cesario di Arla. Se riflettiamo un po' attentamente sulla salvezza della nostra anima non avremo difficoltà a comprendere che siamo il vero vivo Tempio di Dio. Dio non dimora in tempi costruiti dalle mani d'uomo o in case fatte di legno, di pietra, ma soprattutto nell'anima creata immagine per mano dello stesso autore delle cose. Il grande apostolo Paolo ha detto santo è il Tempio di Dio che siete voi. Poiché Cristo con la sua venuta ha cacciato il diavolo dal nostro cuore per prepararsi un Tempio degno di noi. Cerchiamo di fare col suo aiuto quanto è il nostro potere perché questo Tempio non abbia a subire alcun danno per le nostre cattive azioni. Chiunque si comporta male fa ingiuria a Cristo. Prima che Cristo ci redimesse, come ho già detto, noi eravamo abitazione del diavolo. In seguito abbiamo meritato di diventare la casa di Dio solo perché Egli si è degnato di fare di noi la sua dimora. Se dunque carissimi vogliamo celebrare con gioia il giorno natalizio della nostra chiesa non dobbiamo distruggere con le nostre opere cattive il Tempio vivente di Dio. Parlerò in modo che tutti mi possano comprendere tutte le volte che veniamo in chiesa? Riordiniamo le nostre anime così come vorremmo trovare il Tempio di Dio. Vuoi trovare una basilica tutta splendente? Non macchiare la tua anima con le sozzure del peccato. Se tu vuoi che la basilica sia piena di luce ricordati che anche Dio vuole che nella tua anima non vi siano tenebre. Fa piuttosto in modo che essa, come dice il Signore, risplenda per opere buone perché sia glorificato colui che sta nei cieli. Come tu entri in questa chiesa così Dio vuole entrare nella tua anima. Lo ha affermato Egli stesso quando ha detto abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò. Buona giornata. Buona giornata.